come per poco natale? lascialo! che cosa aspetta? non c'è qualcuno sul tetto? e se fosse babbo natale? venite andiamo a bere ferma va! voi vedete da dove viene il rumore? davvero? dove? davvero davvero da qui? davvero da qui? dentro di noi! guardate! oh c'è la! mamma natale! mamma natale! che sorpresa! salutiamola e diciamo salve mamma natale! salve mamma natale! oh! salve ragazzi! salve ragazzi! avanti fulgine! paperino! giù! oh! mi dispiace paperino! mamma natale! mamma natale! oh su su non dire così se vuoi ricevere i regali di natale devi fare il bravo! mamma natale! ho ragionato! mi dispiace mamma natale! mamma natale! mi dispiace mamma natale! mamma natale! e... su non dire! Grazie a tutti.